Ciao ragazzi sono Antold e se mi seguite sapete che stasettimana non ho pubblicato niente. La verità è che ho avuto tantissimo da fare, sono stato impegnato, ho avuto problemi a casa, sono dovuto anche andare a fare delle analisi per la tiroide e quindi non sono stato completamente a casa. Tra il poi potrete vedere un pochino degli stracci di queste giornate passate un po' così alla rinfusa. Mi scuso, sicuramente mi farò rivedere la settimana prossima con tante belle novità, tanti nuovi video e tante altre belle cacchiate che ci piacciono a noi. Io quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ma ristronco! Ciao!